Buon pomeriggio dal palapansini di Giovinazzo per la sfida tra Giovinazzo Calcio a 5 e Cus Molise, valevole per la terza giornata del campionato di Serie A2 Elite, girone B di Fonzo. Piscitelli carica la conclusione, la respinta di Oliveira, Piscitelli scambia con Piscitelli, palo esterno di Fonzo, gioco di gambe, palla per Palumbo che si gira, fuori di un soffio il tentativo di Palumbo. Poi buona difesa qui per il Cus Molise, attenzione al contropiede, Palmeggiani fuori di un soffio, risponde il Cus Molise con questa bordata di punta di Palmeggiani. Va Palumbo, riesce a servire di Fonzo, ancora per Palumbo, diagonale chirurgico di Palumbo per il vantaggio del Giovinazzo. Va ancora Nathan, tentativo, viene però toccato a ripartire il Giovinazzo con Di Fonzo, per Maiuto, Maiuto ha un corridoio, Oliveira poi la rete di Di Fonzo. 2-0, Giovinazzo, il boato del palo Palsini. Rosselli ancora scambia benissimo con Alessandro Marolla la parata di Oliveira. Oliveira, ancora Oliveira, prova Oliveira, porta sguarnita, attenzione, Alessandro Marolla! Alessandro Marolla, 3-0 per il Giovinazzo! Di Stefano, libera Gioosigno che calcia e spacca la porta! Gioosigno, 3-1, di Lisio, movimento, 1-2 che viene mal sfruttato però a spazio di Fonzo, di Fonzo per Sosa. Poi incredibilmente la palla, balla proprio a ridosso della porta e si salva il Cus Molise. Piscitelli, puntata, traversa clamorosa del capitano, attenzione a Nathan, riparte Nathan, palla fuori, occasione da una parte e dall'altra. Gioosigno ancora, Gioosigno! E arriva il gol di Denisco, 3-2, Nathan. Va Nathan, insidiosissimo, poi riparte Giovinazzo, Sosa, Sosa, meiuto per Di Fonzo! 4-2, da una parte all'altra, Di Fonzo con il tappin vincente. Apre il compasso Gioosigno, palla che arriva in qualche modo, a meiuto poi la deviazione di Lisio e per poco non arriva il terzo gol del Cus Molise, proprio sul rimpallo. Rimessa lunga e va a finire qui il match, vince il Giovinazzo che conquista i primi tre punti.